Siamo contando il video vlog Siamo contando il video vlog Tanto attacco i pezzi se è qualcosa Oppure se non riesco a attaccare i pezzi Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video vlog Se non riesco a attaccare i pezzi Andiamo entri in palestra Facciamo un paio di squat Facciamo un paio di squat Maron Stai facendo un video Brava Si sto facendo un video Posso fare anche la live Facciamo un bordello Tu c'è la mia amica là Ricordi quella Eh, quella lì che dicevo di Angelo Il cazzo Andrea Stanno alla giù Qui i cretini stanno alla giù Dall'altro là Dall'altro là Sì Da perché Faccio te Teo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no da quell'altro lato tu vedi in quella strada sta laggando un sacco guarda che è questo lag della madonna mi sembra tantissimo il fatto mi sembra tantissimo il fatto ti sento lagga nel dubbio giugno oddio csp dove lavora mio padre csp vabbè io finisco questo vlog qua visto che sta laggando un sacco riponsi può perché non mette mai in pausa questa cosa di merda questa cosa ci vuole fare durante l'interno di più di più è un'altra cosa di più è un'altra cosa di più